martedì mattina sono alla stazione c'è un appuntamento per vedere una persona per lavoro certomeno di fare la pipì la stazione di pescare una delle più belle d'europa entri dentro c'è il bagno scusate dovrei fare la pipì dove c'è il bagno i bagni non ci sono li stanno ristrutturando li stanno rifacendo ho capito allora la parte sono chiusi allora faccio una cosa mi hanno detto no ma guardi che ci sono i bagni ecologici benissimo vado aprire sto bagno ecologico la vicina che avesse non io non so fare le foto con morì un macello la merda di steve pur sopra ma chi ste partia ma che se può vivere a cucina ma questo è un mondo di vita ma non tanto gli uomini che non c'è un certo momento di vita in angola retina ma le povere donne come fanno come possono fare queste qua c'è parliamo della stazione più bella d'europa a venedetta ma non c'è sanzi ma anche l'ucesse ci sta ma anche l'ucesse più cesso d'europa ma non ce l'abbiamo i bagni e non vi vergognate chi è che dirige questa stazione chi è sul stronzo che comanda là dentro non sarà uno ci sarà uno o una frega e allora siete una frega di stronze ma perché ti dà fastidio ma è la verità ma tu ti rendi conto che cosa vuol dire per una donna che deve fare un bisognino poverino e niente lo bagno ha da schiattacchi lì o forse la gente non si rende conto quando devi fare la pipì specialmente una persona anziata le prostate non funzionano più qualsiasi anziata raccorgi per lui le prostate non vanno più capiti come prima e ora la pesce un po' più rapido e non c'è è un macello e poi tu vai al bar e non c'è la chiave come ne dì la chiave capito è una ti sto dicendo tu ti svegli la mattina una giungla una giungla è una lotta continua però fanno le trasmissioni dei polistani sembra parlare parlano 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 di chiacchiere non c'è ordine abbiamo uno stato senza ordine lì